Linea Germiani Linea Germania L'hanno è stato un trattato La firma del contratto La settimana scorsa Non sicura In effetti è firmato Proprio tempo fa Sì infatti è stata Una trattativa abbastanza lunga Però si è concluso Tutta la settimana scorsa E dalla prossima gara Inizio e faccio Le ultime cinque Dovete fare qualche domanda Sì, non ho molte cose da chiedere a Emanuele, ho una grossa stima di Emanuele e mi auguro che la sua carriera in Formula 1 non sia in salita, che sia una carriera piana e che possa dimostrare tutto il suo valore. Grazie mille, ci vediamo a spallo.